Action! Gorgonzola! Vi piace il gorgonzola? Ma cosa dite, Armando? Io sono devastata dall'amore! L'amore è un perverso folletto! L'amore è diverso sul letto, eh? E provoca lutti nel cuore! E provoca rutti de core! E presso parenti ed amici! L'espresso Fraterni e Parigi... Alberga una terza leggenda! Eh? Alberga una terza leggenda! Alberta si è persa la leggenda! Armando, parlate! Non sembra voi siate malata! Non sempre vi siete lavata, eh?